quindi poi faccio 5 minuti 5 minuti ai twister che cazzo fai? eh sì infatti so tanto tempo in quella posizione è molto difficile infatti tante volte non ci riesco ma non è vero vabbè ma io non è contenuto ma non è non faccio vedere solo il culo e zin anche ci vuole un giusto equilibrio di ogni cosa